Biosangue Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, la salute e soprattutto per tutti, se possibile, un massimo di argento che l'Etat deve dare. Grazie ancora e benvenuti, un grande courage a tutte le persone che sono determinata ancora oggi, oggi è presente oggi, su un samedi a 11 ore, la place Masséna, quindi vi ringrazio tutti e tutti di essere presenti tutti i giorni, a traversi i rései sociali e soprattutto sui le rendezvi di Masséna, qui sulle place, quindi come tutti i samedi, ora a 11 ore, a chiamato il trajeto che l'on va emprunter, quindi abbiamo molti a proposare, il trajeto numero 1 è il promenade dei Anglii, Gambetta, Thierre, Masséna, il redescente qui, per Metsa, il secondo è direzione le port, il fa un grande tour, il prende la traversa di Arribaldi, qui è venuta qui parla di Filippo, il 3e, qui è stato fatto il l'anno, qui è stato fatto il mio più, apparenno, qui è stato molto più pubblicità, è stato fatto il trajeto 1, ma in senso inverso, cioè partire da un anno, prendere un anno, prendere a Thierre, descendere a Gambetta, e venire per la Prèbre, per la trajeta 3. Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.